20 dicembre 1989 Il presidente George Bush invade Panama per rovesciare il governo di Manuel Noriega Ex collaboratore della CIA, poi accusato di traffico di droga e per questo entrato in rotta di collisione con l'amministrazione statunitense Noriega aveva assunto il controllo del paese nel 1986 Sorpreso dalle truppe americane, si rifugia nell'annunziatura vaticana e si arrende solo il 3 gennaio Estradato negli Stati Uniti, nel 1992, Noriega viene condannato a 40 anni di carcere E parliamo